Quando lascerete la terra, CDA Entità A Maestro Andrea, attraverso Corrado Piancastelli, domanda Anche chi conosce queste cose ha questa problematica? Risposta Naturalmente il processo sarà accelerato, ma anche voi, quando lascerete la terra, incontrerete una difficoltà naturale, a mio avviso, cioè quella della percezione dell'autentico stato di spirito, che nessuna mia descrizione riesce a darvi. Io vedo che vi sforzate di capire esattamente cosa accadrà, ma non riuscite a capire cosa sentirete, perché è un'esperienza che potrete fare soltanto dopo, direttamente. Vedi, se io chiedessi a qualcuno di voi di immedesimarsi con uno sforzo di fantasia nella futura situazione psicologica, non ci riuscirebbe. Così come non riuscireste ad immaginarvi, all'età che avete oggi, il pensiero di un bambino di sei mesi. Voglio dire che ciascuno ha l'esperienza di sé in questo momento. Ognuno di voi vive questo momento e non ne può vivere altri.